Avere una dentatura perfetta è oggi possibile grazie alle apparecchiature sempre più sofisticate che si trovano in commercio. Per questo la fiera di Rimini 2015 degli amici di Brugge è un appuntamento imperdibile per tutti gli esperti del settore. Protesi, arredamenti da studio e macchinari sempre più sofisticati è questo quello che un dentista è certo di poter trovare alla fiera degli amici di Brugge di Rimini. Ricerca e innovazione nel settore odontoiatrico per poter offrire sempre il meglio a clienti e pazienti sono le parole d'ordine di questa esposizione. Gli amici di Brugge è più di una fiera. Oltre all'esposizione infatti ogni anno viene accolto un grande convegno che invita a parlare i più grandi professionisti del settore. In giro per gli stand della fiera è facile rimanere affascinati da tutte le sofisticatezze che vengono offerte ai dentisti e agli odotecnici. Brugge 2015, il futuro dentale, parte da qui.